Green Pass obbligatorio ovunque ci siano assembramenti, compresi stadi ed eventi, mentre con una sola dose di vaccino si potrà stare in tutti i luoghi al chiuso, come bar e ristoranti. Sono le decisioni emerse al termine della cabina di regia riunita a Palazzo Chigi nel pomeriggio di giovedì. Novità stabilita per fronteggiare la variante Delta e provare a frenare la risalita dei contagi con un nuovo decreto legge Covid. Il Governo ha deciso che dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per accedere anche agli eventi sportivi, oltre che a concerti, fiere, congressi, ristoranti e bar al chiuso. La campagna vaccinale ha permesso all'economia di riprendersi, ha spiegato il Premier Draghi in conferenza stampa. Il Green Pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività. Il documento sarà dunque necessario anche per entrare negli stadi. Fissate le soglie di capienza per gli eventi sportivi, impianti pieni al 50% quando si terranno all'aperto e al 25%. Quando invece si disputeranno al chiuso, il Green Pass sarà obbligatorio anche per l'ingresso in palestre e piscine. L'entrata in vigore è stata posticipata di due settimane per dare il tempo necessario a tutti di uniformarsi alle nuove regole. Basterà avere anche la sola prima dose di vaccino per ottenere il Green Pass con validità di nove mesi e il documento sarà valido anche per chi abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti, ossia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Non è però ancora chiaro se tali limiti saranno validi per tutte le zone d'emergenza. Una regione infatti passerà in zona gialla in presenza di un contemporaneo riempimento di pazienti Covid-19 al 10% delle terapie intensive e al 15% dei reparti ospedalieri ordinari.